Narciso Vuelo, Federico Esposito, 7, l'Indice Nord Pro, Primna Snidra, 8, Orleans Front, Roberto Andriadetti in seconda, 9, Next Gym, NMG, Edoardo Moni, 10, Olimpico, Nord Pro, Enrico, per lei. Scacco, è molto veloce, l'Indice Nord Pro, cerca di contenerlo, Oba, Oba, Marer, poi avanza Narciso Vuelo, cerca lo stoccato, Dama di Cielo, chiude, prova a chiudere lo stazio, Lui Galvio, parto in terza, Orleans Front, 200, io ho 13 sul metronometro, l'Indice al comando di un calcio, Oba, Oba, Marer, all'argo Narciso, all'argo anti Obama, in terza, Orleans Front, completata la prima curva con l'Indice Nord Pro, sempre saldo, battistrada, qua, primi 600 metri, passati in 43, appena abbondante, siamo verso metà della retta opposta alle tribune, l'Indice Nord Pro, comando, Orleans Front, qua, girato Narciso, il corda si mantiene, Oba, Oba, Marer, poi un Lui Galvio, poi difficoltà, il ritmo solettivo, 58,2,800, l'Indice Nord, Orleans a largo, di dentro, Oba, Oba, Marer, Bocco della curva conclusiva con l'Indice al comando, Oba, Oba, di rincalzo, Orleans a largo, si fallisce anche Narciso, Vuelme, lo segue, Obama di cielo, terza ruota per l'Olympic Nord, frottere, quarti di miglio, con l'Indice Nord in vantaggio, 1,28, appena abbondante, è in 3, accusa, Orleans, pronto, di dentro, Oba, Oba, Mader, a centro pista, scatta, Olympic Nord Pro, la rotta di arrivo con l'Indice in vantaggio, Oba, Oba, prova l'attacco, Olympic a centro pista, l'Indice, Oba, Oba, Olympic Nord Pro, Oba, Oba che passa sull'Indice, interviene, Olympic Nord Pro ed Olympic Nord Pro che viene a vincere davanti a Oba, Oba, Mader che finisce